Batman Arkham Knight, Robin DLC, testa o croce, proviamo. Gioca con Robin, questa storia è metata dopo i fatti di Arkham Knight e cattura due facce senza l'aiuto di Batman, vediamo cosa succede. Ti metto rifiuti in cui infiltrarsi. Davvero divertente. Scusa. Sistemi di allarme disattivati, tocca a te. Sono dentro e non sulla spiaggia. Ascolta, neanche a me fa piacere, ma due facce che evade. Non possiamo ignorarlo e basta. Dipende da quanto è lontana la spiaggia. Dobbiamo metterlo al fresco, Tim. Già, stavolta per sempre. Ok, cosa abbiamo qui? Non vedo molto smaltimento di rifiuti. Stanno smistando soldi, parecchi soldi. Sicurezza? Direi quanto basta. Attento, intento. Ora è diverso. Sei da solo. Mi lasci già solo? Non è quello che... Tranquilla, ci penso io. Boh. Fammi vedere chi c'è. K.O. dal soffitto, però, fammi capire chi c'è, fammi capire cosa devo fare. Ops. Che è successo? Modalità che non me la dà. Mh. Fendi fino all'ultimo dollaro. Nessuno noterà. Ops, non me la dà. Tami, fa vedere chi armi a, inarmi allora. Esplosivo stordente, gel. Eh, sciurica. Filtratore remoto, scudo antiproiettile. Ehm. E vabbè, dai, poi vediamo. Ma dai, chi se ne accorgi? Vediamo giocando. Ora mai mai non mi dà. Ah, perché forse sono quegli oggetti che... multi-ko. Multi-ko. Non l'ho preso. Cominci a muoverti come il fi. Fermami se divento anche lunatico come lui. Vabbè, qui non mi dà la mappa. Questo lo prendo, poi non lo so. No, facciamo. Ora le sue armi non... Andiamo via. Eh, se mi hai visto fra poco non mi vedi più. Sono svanito. Però io volevo vedere chi manca. Volevo vedere uno, due. Eeeh, uno, due. Eh, non so quanti sono, non so. Eh, no, 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 no. Non mi conviene. Questo è solo, però. Questo è solo. Però, fa rumore. Uno, due. Appavo silenzioso. Eh, no. Eh, no. Appavo silenzioso. Tre, sono tutti io qui. Questo. No, questo. Io ho mirato quell'altro, ma insomma. Dai, facciamo così, dai. Eh, dai, ce n'è un altro che mi tira da qualche parte. Eh, io ho puntato quell'altro, mi hanno preso un altro. Quello a destra, ho puntato quello a sinistra. Non ho la mappa, non ho. Vabbè, sono tornato qui. Allora, qui... Ah, c'è... C'è questo, no? No, che non c'è questo. Boh. Dove mi rimane? Che non vedo chi è vivo. Allora, non vedo chi è vivo. Eccoci, eccoci. Ancora cercando di capirlo. Beh, allora il frigate. Allora, c'è questo. Ma... Tre erano, eh, perché non vedo bene. Eccolo. Questa volta non ci sfuggirà. È lassù. L'ha visto. Beh, forse è rimasto l'ultimo. Forse è rimasto l'ultimo. Forse è rimasto l'ultimo. Dove mi rimasto l'ultimo. E... Non sono finiti, guarda. Non sono finiti perché non mi ha dato l'ultimo. KO rallentatore. Devo vedere chi manca. C'è un filo di vita. Qui parlano, parlano. Perché sono ancora vivi. E... Capisco perché questa visuale... Ma, perché non era questo tombinoi? Modalità... Eh... Elevata. Eh, non... Non so dove è l'ultimo. Ci prende uno a uno come un figliaco. Non so dove è l'ultimo. Non è un uomo. Qui... Eh... Non c'è... Non ho gli infrarossi. Però... C'è un altro disgraziato a giro. Speriamo non mi veda prima lui di me. Fatti vedere te. Così capirà dove siamo. Eh, io non ho. Non è che è qua dentro. Non è che è qua dentro. No, io voglio quest'altra di grado. No, qui non mi ci fai. Dai. Eh, io non so dove sei. Ah, bene. Ne manca uno. Eh, non lo trovo. Siete tutti una manica di principianti. Non lo trovo. Eh, perché non ho il radar. Sennò era facile trovarlo. Non ho il radar. Non trovo l'ultimo. Eh... Eh, mi vede. Io non ti vedo a te. Cristo, dove sei? Ah, giù su. Guarda dove. Sono due. Erano due. Cristo, dove è l'ultimo? Qui. Eccolo che è l'ultimo. E' andava bene. Stranamente non mi ha dato la mappa, non lo so. Va bene, dai. Basta passare. Farò parlare. Davvero? Cosa? Niente. Barbara, mi accordo di quando vuoi dire qualcosa. Ok. È solo che... Tu eri sempre il poliziotto buono. Mi sbaglio. Il poliziotto buono, eh? Ok. Oh, va, intero che è il caposquadra. Eh, dammi sta meta. Dammi sta meta. Oh. Ora è tornata alla normalità. Forse era per colpa di questi. Non lo so. Intero che è il caposquadra. Eh, dov'è? Il caposquadra? Devo raggiungere il caposquadra. Lui saprà dove si nasconde due facce. Eh, ho capito. Caposquadra. Quale sarà il caposquadra? Che so, un dovino. Questi sono tutti morti, sono tutti uguali. E la meta non me la dà. No, non ho la meta. Per raggiungere il caposquadra. Ah, poi passava anche di qui. Passavo. Vabbè, eh, io non lo so. Dove si... Non lo so, guarda. Dov'è questo caposquadra? Senza meta si va a male. Caposquadra, 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 caposquadra. C'era anche tutto di sotto, la fight. Vabbè, non me la dà. La meta, non... Che mi dice? Niente si dice. Raggiungi il caposquadra. Dove si trova? Condizione non cosciente, vabbè. Caposquadra. Ah, eccola la meta. 71. Eh, ora è apparsa, se no uno come fa? Eccola la meta. Aspetta. Eh, ora la vedo, ma prima non c'era, capito? Senza meta come fai? Su. Guarda, ti dice su. E su come? Eh, vedi però? Di là, magari di là. Beh, basta, è una volta e lo so. Eccoci qua. Ah, questo è ancora vivo. Ma guarda. Eh, non sapevo dov'era, non la vedevo. Dove si trova? Non mi fai paura. Ah, 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 ah. Questo dove va senza armi. Ah, ah, ah. Dove? E dove va? Ok, ok, il valerò. È nell'ufficio centrale, lo giuro. Ah, ah, ah. Che pensavo di fare questo? L'eroe? Davvero terribile, tesoro. Ah, ah, ah. Pensavo di fare il furbo quello. Lo so che sei qui. Sempre a combattere per le buone cause, vedo. Ah, questo è due facce. Cattura due facce. Mmm. Cattura due facce. Stavo sbrigativo perché... Perché l'area l'ho sgombrata, diciamo... Veloce, se no ti teneva un po' lì, eh. Ti teneva... Stavo un po' veloce perché mi sono sbrigato. Eh, un po' però c'è altre fight. C'è altre fight, però. Allora, questi vanno buttati giù. Quanti sono? È pieno più le mitragliette. Dopo aver lavorato con Batman, crede di essere meglio di quello che... Allora, eh, mitragliette. Ce l'ho quello e disarma. Sì, che ce l'ho. È una, però. Sensori disattivati, ma l'altro drone tornerà online. Eh, no, è lo stesso. Sono tre. Guarda, facciamo un KO così. Non ti ci monta nel filo. Ho capito. Eh, no, il filo no. Strano, sì. Il filo sì. Filo sì. Qui si prende un... Oh, capo! Un multiplo! Va bene. Eh, non va bene. Sì, questi ti dice che sono 100% da magia. Va bene. Eh, ragazzi. Ho beccato un uccellino. Riprovo. Facciamolo a smettere di soffrire. Eh, va bene. Lì, 100% da magia. Ci ho provato ad andare su, però. Troppe armi da fuoco per un attacco frontale. Devo trovare un altro modo. Troppe armi da fuoco per un attacco frontale. Devo trovare un altro modo. Allora, qui c'è una botola. Che mi serve. Per ammazzare uno dei tre. Perché la cosa è messa così. Allora, uno lo prendo da qua, col gel. Uno. Gli altri due devo un po' studiare la ossa. Ecco, perché sono protetti da tre torrette che sparano. Eh, fanno quasi l'80% da magia, in pratica. Quindi torni su e fai. Fai, fammi vedere. Ti prendi. Te lo mando, questo. Questa io se ora potrei. Allora, sono ok. Devi stare calmo. Ce la faremo. Multikapo. Dai, dietro non ci arriva. Disattiva questa. Poi disattivi questa. Te ne vai. No, questa c'è un telecomando, guarda. E questa, niente. Questa non si disattiva. A posto, a posto, a posto, a posto. Io ho finito. Cioè, questa, io ho sgombrato l'aria, però non vedo la meta. Eh? Aspetta, devo uccidere anche questa. Questa ho tutto il tempo. Che, che fo' qui? Questa non gli fai niente, non gli fai. Spara solo dritto. Vabbè, andiamo via da qui. Io ho fatto. Siamo d'accordo che ho fatto. Vai via. Solo così. Non c'è più rampini per il resto. Quella non mi fa più niente. Non mi fa più danno. Non mi fa paura. Perché io ho finito. Però... Che dovrei fare ora? Ti dice non hai finito? Ah, perché c'era questo. Ah, questo. Però non me lo segna. Eccola qui la meta. La scatoletta. Protetta da... Vabbè, allora. Questa non è più periolosa. La disattivo come mi pare. Fai così. C'è la meta. Giù. Dove l'ho vista? È la scatola. Però non me la segna. Eccola qui, però. Vuole e... Usa. Ah. Possiamo gracchiare perché non si arrendono. Sì, ma qui c'è il tempo con quella. Eh, non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Ah. Si è rotta così. Ah, se andiamo avanti. Andiamo avanti. Si è rotta così. Era un po' a timing. Un po' no. Eccoli qui, altri qui. Sì, non so con chi ce l'hanno. Ehi, ricordatemi. Perché lo facciamo? Perché tu che cavolo credi? Per divertimento. Eh, questi vanno fatti fuori. Che armi c'ho... Gel esplosivo. Ci pagano per colpire questa cosa. No, qui. No, imbecille. I soldi sono dentro. Boh, facciamola qui. Ah, ah. Ha funzionato. Po, lo fatti fuori tutti? No. Ah, è il due facce questo. Mi sa che è due facce. Sì, eccolo qua. Due facce. Mi sa che... L'ho sdraiati tutti con... Con il gel esplosivo, guarda. Mi sa che l'ho sdraiati tutti... Con quell'affare. Dai, il più è fatto, dai. Il più è fatto. E' tutto qui. Due facce. Ma è lui. No, non è due facce. Non è due facce. Era uno normale, allora. Era uno normale. Allora, qui... Aspetto la meta, allora. Eccoci qua. Devo fare così. C'è un po' smanettato. Qui c'è una porta di aprire. C'è una porta... Per... Da aprire in qualche modo, così. E vedremo come. Ah, qui è tutto... Qua... Vorrà i disegni uguali, vorrà. Perché non aveva capito il messaggio che mi dava. Vabbè, i disegni o sono. O statui bianchi o quelle nere. Vediamo. Vorrà due facce. C'è un enigma. Ah, vuole mezza e mezza. Ho capito. Mezza nera. Sì, perché è due facce. Questo è l'indizio, questo... Eccoci qua. Sì, 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 sì. Voleva due facce e mezzo e mezzo. Ce l'ha. Fatto 2 più 2. Allora, scudo antiproiettile. Un attimo. Questo non l'ho mai usato. LTPB. Tiene lo scudo alzato. Ce l'ho. Ce l'ho. Ah, così. Allora. Ah, questa è la nuova arma. Vabbè, io posso fare anche così. Ma è uguale, devi parare. Non lo potevo fare anche prima con quelle mitragliette. Si vede lì, no. Eccolo qua, due facce. Guarda, ti venga a prendere, eh. Due facce. No, non è. Vabbè, qui posso. Qui posso. Vabbè, qui si riperde. Si riperde perché ho preso quello sbagliato. Ah, sì, qui c'è un gran casino, eh. Ok, qui c'è un gran casino, questo non smette mai. A parte che sto pieno di roba. Mi fai vedere. Aspetta, c'ho questo, c'ho il gel, però non te lo fanno, tira. Ah, così lo tira, qui. Tira, tira. Ah, non me l'ha messo, non me l'ha piazzato. Vabbè, alcuni c'hanno armi. Vabbè, ho perso i da riprovo qui perché non c'ho... Erano tanti. Non c'ho capito niente. Che c'è, Robin? Ci vuole Batman per salvarti. Aspetta. Eh, vabbè, non puoi fare niente, non puoi fare. Ah, lì scrivi le lame. Eh, vabbè, qui è un gran casino. Non è che poi gioca scappando. Attacco. Eh, lo vedo come scriva le lame. Eh, lo vedo. Se l'ho fatto. L-T più Y. Vabbè, la riproviamo. V-X. È una combinazione che funziona, però. Si rompono dietro le scatole anche quegli altri che non vogliono il V-X. Vabbè, abbiamo un bel K-O. V-X. Ho capito, V-X. Un attimo. V-X devo fare quello giusto. Vabbè, B-A-A. Vabbè, B-A-A. B-A. Eh, dai. Te lo fa, lo ammazza. Poi. Questo mi fa male Devo far prima io Il K-O perché se no Quello no Quello con qualche arma Eh no, peggio, peggio Chi è che mi tira la roba? Ancora no, mi è sparita la combinazione Com'era questo AX? Chi è che mi tira la roba? Ma guarda, beh, questo lo prendo Però Per il resto Così Vabbè Non so troppo Stami vedere Ci si fa AX Un attimo Questo ora no Allora Dai, è l'ultimo B-A-A Ma dai, non prendi La sto facendo Vabbè, accetta Quando gli pare È andata Dai Ah, lui era sul trono Ma non per molto Purtroppo Mi ha levato Lo scudo Mi ha Mi ha sdraiato Mi ha ferito Venire qui non è stato coraggioso È stato stupido Ci ho aiuto di battagherle? Non credo Non sei Batman Non lo sei mai stato Né mai lo sarai Tim, preparati Mi dispiace Da solo non puoi farcela Ah C'è la scena interattiva Testo a croce Ah L'ho accattato Portiamo queste immondizie Al commissariato Torniamo su quella spiaggia Vero Finito, dai Era un colpo interattivo Lui Beh, carino è stato Dai, carino anche lui Carino anche lui Fine Robin Di LC Di Batman Arkham Knight